oggi parleremo di come ottenere delle lunghe esposizioni attraverso di una opzione attivabile su la panasonic g90 e sulla s5 che si chiama live composite prima di tutto chiariamo a cosa serve lunga esposizione normalmente serve per ottenere degli effetti tipo quelli dell'acqua setosa quando siamo al mare o quando siamo in montagna davanti a una cascata detto questo normalmente si ottengono chiudendo il diaframma utilizzando degli sobbassi e utilizzando una specie di potremmo definirlo degli occhiali da sole per la macchina fotografica pregente dei filtri nd il problema è che in pieno sole magari all'una di un giorno d'estate neanche un filtro né di mille cioè di 10 stop vi permetterà di avere dei tempi abbastanza lunghi per ottenere questa questo tipo di fotografie e allora che possiamo fare possiamo utilizzare su queste macchine del questa opzione che in realtà nasce per fare light painting in pratica come l'andiamo a utilizzare allora mettiamo la macchina su un cavalletto controlliamo che sia ben fermo e che non si muova in nessuna maniera quindi che non ci siano cose svolazzanti eccetera poi impostiamo l'autoscatto ora in questa macchina l'autoscatto si imposta mettendo questa ghiera in questa maniera in più mettiamo proviamo a mettere un autoscatto a due secondi quindi andiamo qua vediamo se lo troviamo autoscatto e autoscatto lo mettiamo a due secondi perché magari 10 sono troppo lunghi a noi serve l'autoscatto più che altro per premere il bottone di sparo diciamo della macchina e di scatto e non avere vibrazioni quindi poi la macchina in realtà inizierà a fare la foto due secondi dopo a questo punto che altro dobbiamo fare per ottenere questo effetto andiamo a disabilitare lo stabilizzatore quindi andiamo sempre sul menu rec di registrazione andiamo a cercarci dove dice stabilizzo eccolo qua andiamo lo apriamo modalità di funzionamento off che altro dobbiamo fare e andiamo per esempio mettere il menu di registrazione con una qualità raw più fine quindi ritorniamo sopra qualità raw più la fine questo perché perché in questa maniera abbiamo sia una foto registrata per poter essere lavorata dopo sia una foto che magari già è pronta in jpeg da fare lo share con i nostri e sui nostri social naturalmente l'altra cosa che farei e stile foto vivi da perché perché normalmente qua stiamo facendo foto di paesaggi nel 90 per cento quindi è probabile che questo sia l'opzione migliore poi inseriamo l'nd eccetera ora non lo inserisco perché tanto ora è quasi buio quindi i tempi di esposizione saranno già abbastanza lunghi senza l'nd chiudiamo il diaframma quindi abbiamo bisogno di una serie di cose mettiamo in a ce ne andiamo in priorità di chiudiamo al massimo il diaframma e torniamo indietro di almeno uno perché di almeno diciamo sarebbe meglio di uno stop però anche un terzo di stop comunque aiuta perché perché evitiamo di che entri diffrazione nella lente per diffrazione intendiamo quella quella caratteristica ottica per la quale a chiusure troppo elevate si ottengono foto meno dettagliate più soft come vengono dette rispetto a con la chiusura completa a questo punto che altro facciamo andiamo inserire gli iso quindi spingiamo il bottoncino degli iso e andiamo al minimo possibile per esempio questa macchina in realtà 200 dovrebbe essere l'iso nativo ma possiamo scendere fino a iso 100 a questo punto dopo aver messo gli iso più bassi essere in a mettere la il diaframma più chiuso possibile andiamo a misurare cioè ci mettiamo in modalità fuoco a un'area scegliamo un'area sulla quale vogliamo fare prendere l'esposizione scusate sulla quale vogliamo mettere a fuoco spingiamo a metà e ci dà per esempio guardate 13 secondi f14 perfetto 13 secondi f14 è quella unità che noi dovremmo inserire nel live composite live composite che nella versione in italiano poi qua viene chiamata allora per andare in live composite scusate prima passiamo su m quindi mettiamo in m giriamo questa ghiera che vedete qua fino a ottenere che dica la scritta qua sotto lc a questo punto menu composizione in live view invece di car di live composite la chiama composizione in live view avevamo detto che dovevano essere 14 secondi quindi andiamo a cercarci 14 secondi qua 14 non c'è c'è 13 e 15 mettiamo che ne so 15 ok qualcosa che si avvicini a questo punto siamo praticamente pronti a fare la foto ricordate che quando andiamo a fare la foto la prima foto che facciamo che sarà appunto in questo caso i 14 secondi dopo i due secondi di non sarà conteggiata quindi questa prima foto non serve per il live composite vediamo ok dobbiamo di nuovo premere il bottone di sparo e a questo punto lui inizierà a fare veramente la prima foto dopo in questo caso 14 secondi vedremo video la prima foto e dopo altri 14 secondi lui inserirà la seconda foto e così via finché voi non schiacciate di nuovo il bottone di di scatto qual è il punto il punto è che queste foto non si sommeranno in realtà quello che fai registrare solo i cambi di luminosità questo vuol dire che solo ciò che si muove in questo frangente viene registrato il resto rimane come diciamo la prima foto che era stata scattata e di diciamo di prova questo fa sì che le foto non si bruci no ma che si ottenga un effetto il punto di movimento non lo so nell'acqua nelle nubi eccetera lasciando inalterato il paesaggio tenete anche conto che naturalmente se qualcosa rimane all'interno del diciamo della composizione per troppo tempo questa in qualche modo verrà registrata e vista un po come un fantasma per cui vi faccio vi lascio anche l'esempio della foto in cui dopo vari minuti di registrazione in realtà c'era un cane che si stava muovendo che però è rimasto molto tempo all'interno dell'inquadratura e ci ha dato questo effetto fantasma ma in generale se le persone entrano e escono dell'inquadratura nel lasso di tempo di una registrazione questa praticamente non le vedrà spero di essere stato chiaro spero che ci vedremo al prossimo video